Francesco Renga è il favorito vincitore di Sanremo 2014 insieme a Noemi, la sua affermazione infatti viene quotata a 3,75 volte la posta dalla SNAI. Il riccioluto e bravo cantante si è già fermato al Festival dei Fiori nell'edizione del 2005 con la splendida canzone Angelo. In questa edizione di Sanremo presenta due brani di assoluto rispetto che sulla carta promettono bene a giudicare dagli autori. La canzone A un isolato da te è composta infatti da Roberto Casalino, autore tra l'altro di brani di successo come l'essenziale, attuale campione in carica e vincitrice lo scorso anno con Mengoni proprio a Sanremo, per sempre di Nina Zilli e Non ti scordare di me di Giusy Ferreri. L'altro brano che presenta Renga è poi scritto niente poco di meno che da Elisa. Per il duetto Francesco Renga sarà accompagnato da Checco De Mudà sul brano di Edoardo Pennato, Un giorno credi. Cliccando sul testo delle canzoni all'interno di questo video le puoi ascoltare direttamente su YouTube. Ricordati infine di iscriverti al canale 25 e buon divertimento.